otb il gruppo internazionale di mode lusso ha presentato i risultati al 31 dicembre 2023 è stato un anno di crescita importante che conferma e consolida il posizionamento del gruppo su tutti i principali mercati canali di distribuzione l'esercizio chiuso con un fatturato di 1,9 miliardi in incremento del 10,2 per cento nel 2023 le performance di tutti i brand che fanno capo al gruppo tb sono state particolarmente positivi in termini di aumento di fatturato in particolare diesel amazon margiela gil sander e marni sono cresciuti del 13,1 per cento 23 e 17,3 per cento staff international continua così ad essere un asset altamente strategico del gruppo rafforzando il suo ruolo di piattaforma produttiva e logistica per i brand di di otb